Siamo qui, Cristian Tigrezzo, l'autore del blog, un grandissimo attore, veramente un grande, Lando Buzanca, che è una sorpresa per tutti voi. Grazie, mi raccomando ragazzi, fatevi posto, cercate di aggrapparvi, aggrapparvi, perché la vita è difficile. Grazie di questi consigli, tu ci stai su internet? No, c'è mio figlio, Massimiliano Buzanca, un altro bellissimo attore, per carità, per carità, Gian Piero Mughini, grande abbraccio, facciamo salutare anche a lui, salutiamo tutto il web, tutto internet, salutiamo? Allora, cos'è questo internet? Non so cos'è, il web, il web cos'è? Il web è seguito, ma lei non usi queste parole in mia presenza, in mia presenza, adesso c'è la televisione e c'è il web. No, sì ho capito, perfetto, ciao a tutti, è finito, ciao, 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 no scusa, ciao, 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 ciao.